C'è la data del recupero o meglio la prosecuzione della partita sospesa per impraticabilità del campo domenica scorsa sul neutro di Alberobello al minuto 34 della prima frazione. La gara tra Fasano e la Versa, valida per la sesta giornata del campionato di Serie D, riprenderà mercoledì prossimo a partire dalle ore 14.30 proprio dal momento dell'interruzione con i campani avanti per 1-0 grazie alla rete realizzata al 24esimo da Simonetti su calcio di rigore. Prima però c'è il derby contro il Nardò in scaletta domenica, sempre il Vito Curlo, sempre le 14.30. I Salentini sono in serie positiva da tre turni in cui hanno battuto anche il Casarano e collezionato complessivamente sette punti. Sono tre invece quelli che ha in classifica la squadra di Raimondo Catalano che vuole dare una scossa alla propria stagione. Sicuramente la partita arriva secondo me al momento giusto quella col Nardò. Abbiamo grande rispetto di questa società, di questa squadra perché probabilmente anche loro non meritano la classifica che hanno. Però comunque diventa per noi quantomeno importante fare punti e muovere la classifica. A partire dalla gara di domenica contro il Nardò intanto il Fasano avrà a disposizione una freccia in più per il proprio arco. Denis Straqualursi, attaccante argentino di 33 anni nel primo segmento di questa stagione in forza al Taranto. In carriera vanta esperienze di prestigio non solo in patria. Con la maglia del Tigre ha realizzato una memorabile tripletta alla bombonera contro il Boca Juniors. Vanta pure una parentesi in Premier League con l'Everton con i Toffis. Ha segnato pure un gol al Chelsea. Seconda esperienza per lui in Italia dopo quella con gli Ionici con cui ha messo a segno una rete in quattro presenze. Questa realizzata l'11 ottobre nel 3-1 inflitto in trasferta alla Putiolana. L'altra novità ma che non riguarda solo il Fasano è rappresentata invece dal nuovo protocollo sanitario specifico per le realtà di Serie D. Era l'unica via percorribile. O si adottavano delle situazioni di questo genere altrimenti non aveva senso andare avanti. Perché comunque si sarebbe andato oltremodo a falsare ulteriormente il campionato. E quindi ripeto era l'unica via percorribile. Sicuramente è stato fatto un grandissimo passo avanti. È chiaro che oltre alle regole scritte serve anche quella del buonsenso.